Ciò nonostante, da un punto di vista obiettivo, in lui non c'era proprio nulla che suscitasse paura. Quando crebbe, non era particolarmente alto, non forte, brutto sì, tuttavia non così brutto da doverne provare spavento. Non era aggressivo, non falso, non subdolo, non provocava. Preferiva stare per conto proprio. Anche la sua intelligenza sembrava essere tutt'altro che temibile. Soltanto a tre anni cominciò a reggersi su tutte e due le gambe. A quattro disse la sua prima parola, era la parola pesci, che in un momento di eccitazione improvvisa gli uscì fuori come l'eco di un ricordo, mentre da lontano un venditore di pesci risaliva Rue de Charon e annunciava gridando la sua merce. Le parole che mise fuori in seguito furono Pelargonio, Caprile, Cavolo Versotto e Jacques Seleur, quest'ultima il nome di un aiuto giardiniere della vicina opera Pia Fille de Croix, il quale all'occasione sbrigava i lavori più rozzi e più pesanti per Madame Gaillard e si distingueva, per non essersi mai lavato, una volta sola in vita sua. Con i verbi, gli aggettivi e le particelle espletive aveva qualche difficoltà, eccetto sì e no, che del resto pronunciò molto tardi. Cacciava fuori soltanto sostantivi, anzi in verità soltanto nomi propri di oggetti concreti, piante, animali e persone e anche allora solo quando questi oggetti, piante, animali o persone lo sconvolgevano all'improvviso con il loro odore. Nel sole di marzo, mentre era seduto su una catasta di ceppi di faggio che scricchiolavano per il caldo, avvenne che gli pronunciasse per la prima volta la parola legno. Aveva già visto il legno centinaia di volte, aveva sentito la parola centinaia di volte, la capiva anche, infatti l'inverno era stato mandato fuori spesso a prendere legna, ma il legno come oggetto non gli era mai sembrato così interessante da darsi la pena di pronunciarne il nome. Ciò avvenne soltanto quel giorno di marzo, mentre era seduto sulla catasta. La catasta era ammucchiata a strati, come una panca, sul lato sud del capannone di Madame Guillard, sotto un tetto sporgente. I ceppi più alti emanavano un odore dolce di bruciaticcio. Dal fondo della catasta saliva un profumo di muschio e dalla parete d'abete del capannone si diffondeva nel tepore un profumo di resina sbriciolata. Grenoie era seduto sulla catasta, con le gambe allungate, la schiena appoggiata contro la parete del capannone. Aveva chiuso gli occhi e non si muoveva. Non vedeva nulla, non sentiva e non provava nulla. Si limitava soltanto ad annusare il profumo del legno che saliva attorno a lui e stagnava sotto il tetto come sotto una cappa. Beve questo profumo, vi annegò dentro, se ne impregnò fino all'ultimo e al più interno dei pori, divenne legno lui stesso. Giacque sulla catasta come un pupazzo di legno, come un pinocchio, come morto, finché dopo lungo tempo, forse non prima di una mezz'ora, pronunciò a fatica la parola legno, come se si fosse riempito di legno fin sopra le orecchie, come se il legno gli arrivasse già fino al collo, come se avvesse il ventre, la gola, il naso tra boccanti di legno. Così vomitò fuori la parola e questa lo riportò in sé. Lo salvò poco prima che la presenza schiacciante del legno con il suo profumo potesse soffocarlo. Si alzò a fatica, scivolò giù dalla catasta e si allontannò vacilando su gambe di legno. Per giorni e giorni fu preso totalmente dall'intensa esperienza olfattiva e quando il ricordo saliva in lui con troppa prepotenza borbottava fra sé e sé «Legno, legno, a modi scongiuro». Così imparò a parlare, con le parole che non indicavano un oggetto dotato di odore, quindi con concetti astratti, soprattutto di natura etica e morale, aveva le difficoltà maggiori, non riusciva a ritenerle, le scambiava fra loro, persino da adulto le usò malvolentieri e spesso in modo sbagliato. Diritto, coscienza, Dio, gioia, responsabilità, umiltà, gratitudine, eccetera, tutto ciò che queste parole dovevano esprimere per lui era e restò oscuro. D'altro canto, la lingua corrente ben presto non sarebbe più bastata a definire tutto ciò che aveva immagazzinato sotto forma di concetti olfattori. Presto riconobbe all'odore non soltanto il legno, bensì diverse specie di legno, legno d'acero, legno di quercia, legno di pino, legno dolmo, legno di pero, legno vecchio, giovane, putrido, marcio, muscoso, persino singoli ceppi di legno, frammenti e schegge di legno e all'odore ne percepiva le diversità con una chiarezza che altri non sarebbero mai riusciti ad avere con gli occhi. Similmente avveniva con altre cose. Che quella bevanda bianca che Madame Guillardson si somministrava ogni mattina ai suoi pupilli venisse comunque chiamata latte, quando per la sensibilità di Grenoie ogni mattina aveva un odore e un sapore del tutto diversi, a seconda che fosse più o meno calda, a seconda della mucca da cui proveniva, di quello che la mucca aveva mangiato, della crema che vi era stata lasciata e così via, che il fumo, una struttura olfattiva in cui si riflettevano centinaia di singoli aromi che di minuto in minuto, anzi di secondi in secondo, si trasformava in un miscuglio nuovo come il fumo del fuoco possedesse appunto soltanto quell'unico nome fumo che la terra, il paese, l'aria, che ogni passo e a ogni respiro erano colmi di un odore diverso e quindi animati da un'identità diversa potessero essere definiti soltanto da quelle tre grossolane parole, tutte queste disparità grottesche tra la ricchezza del mondo percepito con l'olfatto e la povertà del linguaggio, facevano sì che il ragazzo Grunui dubitasse del senso del linguaggio in genere e si rassegnasse a farne uso soltanto quando i rapporti con gli altri esseri umani lo rendevano indispensabile. A sei anni aveva già una percezione totale del suo ambiente dal punto di vista olfattivo. In casa di Madame Guillard non c'era oggetto a nord di Rue de Charon, non c'era luogo né persona né pietra, albero, cespuglio o steccato né pezzo di terra così piccolo che non conoscesse e riconoscesse all'olfatto e che non custodisse per sempre nella memoria con la sua particolare unicità. Aveva collezionato diecimila centomila odori peculiari e specifici e li teneva a sua disposizione con tale chiarezza quando lo desiderava che non soltanto li ricordava quando li percepiva di nuovo ma li sentiva concretamente ogni volta che li ricordava. Anzi, più ancora, sapeva persino combinarli tra loro soltanto con la fantasia e in tal modo creava dentro di sé odori che nel mondo reale non esistevano. Era come se possedesse un gigantesco vocabolario di odori appresi automaticamente che lo metteva in grado di formare quasi a suo piacere una quantità di proposizioni olfattive nuove e questo a una età in cui altri bambini con le parole inculcate in loro a fatica balbettavano le prime frasi convenzionali del tutto inadeguate a descrivere il mondo. Tutt'al più il suo talento si poteva paragonare a quello di un bambino prodigio in fatto di musica che avesse carpito alle melodie e alle armonie l'alfabeto dei singoli toni e ora componesse da sé melodie e armonie del tutto nuove naturalmente con la differenza che l'alfabeto degli odori era di gran lunga più vasto e più differenziato di quello dei toni e inoltre con la differenza che l'attività creativa del bambino prodigio Grenoy si svolgeva soltanto dentro di lui e non poteva essere percepita da altri che da lui stesso nei confronti del mondo esterno divenne sempre più chiuso di preferenza andava a passeggiare da solo verso nord in Foubourg Saint Antoine attraverso orti vigneti prati talvolta la sera non tornava a casa restava assente per giorni sopportava il castigo previsto col bastone senza manifestare il dolore il divieto di uscire la privazione di cibo il lavoro assegnato per punizione non modificava un affatto il suo comportamento una sporadica frequenza di un anno e mezzo alla scuola parrocchiale di Notre Dame de Bon Secure non provocò alcun visibile effetto imparò a sillabare un poco e a scrivere il proprio nome nient'altro il suo insegnante lo giudicò deficiente Madame de Gard invece si accorse che il ragazzo possedeva determinate capacità e caratteristiche che erano molto insolite per non dire sovranaturali ad esempio la paura infantile del buio e della notte sembrava essergli totalmente stranea si poteva sempre mandarlo a fare una commissione in cantina dove gli altri bambini si azzardavano a scendere a malapena con una lampada oppure fuori fino al capannone a prendere legna quando era buio pesto e ormai Grenoy aveva con sé un lume e tuttavia si orientava e portava subito ciò che gli era richiesto senza prendere la cosa sbagliata senza inciampare o rovesciare qualcosa ma ancora più straordinario era il fatto che lui come Madame de Gard pensava di aver appurato riusciva a vedere attraverso la materia la carta il legno persino attraverso le pareti di muro piene le porte chiuse sapeva quanti e quali allievi si trovassero nel dormitorio senza esservi entrato e sapeva che nel cavolfiore c'era un bruco prima ancora che l'aprissero e una volta dopo che lei aveva nascosto i soldi così bene da non riuscire a più retrovarli perché cambiava i suoi nascondigli senza cercare neppure un secondo lui le indicò un posto dietro la trave del camino ed ecco erano proprio là sapeva persino leggere nel futuro ad esempio quando annunciava la visita di una persona molto prima del suo arrivo oppure sapeva pronosticare immancabilmente l'avvicinarsi di un temporale prima ancora che in cielo si vedesse la più piccola nuvola il fatto il fatto che lui ovviamente non vedesse tutte queste cose non le vedesse con gli occhi ma le fiutasse con il suo naso sempre più raffinato e preciso nel cogliere gli odori il brucco del cavolfiore i soldi dietro la trave le persone attraverso le pareti e a una distanza di parecchi tratti di strada Madame Guillard non l'avrebbe immaginato neppure in sogno anche se quel colpo con l'attizzatoio la avesse lasciato intatto il suo nervo olfattorio era convinta che il ragazzo deficiente o no fosse dotato della seconda vista e poiché sapeva che i veggenti portano sventure morte Grenoy divenne per lei una presenza inquietante ancora più inquietante addirittura intollerabile lei era il pensiero di vivere sotto lo stesso tetto con qualcuno che aveva il dono di vedere il denaro nascosto con cura attraverso pareti e travi dopo avere scoperto questa capacità spaventosa di Grenoy cercò di liberarsi di lui e fu una fortuna che all'incirca nello stesso periodo Grenoy aveva otto anni il convento di Saint-Marie sospendesse i suoi pagamenti annuali senza dichiararne i motivi Madame non chiese nulla aspettò per decoro ancora una settimana e poiché il denaro dovuto continuava a non arrivare prese per mano il ragazzo e si recò con lui in città in rue della mortellerie accanto al fiume conosceva un conciatore di nome Grimal che notoriamente aveva bisogno di mano d'opera giovane non di apprendisti o garzoni regolari bensì di braccianti a poco prezzo in quell'attività c'erano appunto lavori spolpare pelli di animali in decomposizione mescolare liquidi di concia e coloranti preparare cortecce da concia corrosive talmente pericolosi per la vita che un padrone conscio delle proprie responsabilità possibilmente non impiegava per questi suoi aiutanti qualificati bensì marmaglia disoccupata vagabondi o appunto bambini abbandonati dei quali in caso di dubbio nessuno più chiedeva notizia naturalmente madame Guillard sapeva che a giudizio d'uomo Grenoil non aveva nessuna possibilità di sopravvivere nella conceria di Grimal ma non era il tipo di donna da preoccuparsene il suo dovere lo aveva pur fatto il rapporto d'assistenza era terminato come sarebbe stato l'avvenire del ragazzo non la riguardava se sopravviveva bene se moriva bene ugualmente l'importante era che tutto avvenisse in modo lecito e quindi si fece attestare per iscritto la consegna del ragazzo da Monsieur Grimal dal canto suo firmò la ricevuta di 15 franchi di provvigione e ritornò verso casa in Rue de Charon non avvertiva neppure un'ombra di rimorso al contrario riteneva di avere agito non soltanto in modo lecito ma anche giusto perché la permanenza di un bambino per cui nessuno paga avrebbe gravato necessariamente sugli altri bambini o addirittura su di lei e avrebbe potuto compromettere l'avvenire degli altri piccoli pensionanti o addirittura il suo futuro personale e cioè la sua morte privata appartata l'unica cosa che desiderasse ancora nella vita dal momento che a questo punto della storia lasciamo madame guillard e anche più tardi non la incontreremo più descriveremo in poche frasi la fine dei suoi giorni sebbene già da bambina fosse interiormente morta per sua disgrazia madame divenne molto molto vecchia nell'anno 1782 a quasi 70 anni lasciò il suo mestiere si assicurò un vitalizio come si era prefissa si ritirò nella sua casetta e aspettò la morte ma la morte non venne in sua vece venne qualcosa che nessuno al mondo avrebbe potuto prevedere e che nel paese non si era mai avuto e cioè una rivoluzione vale a dire una rapidissima trasformazione di tutti i rapporti sociali morali e trascendentali in un primo tempo questa rivoluzione non ebbe ripercussioni sul destino personale di madame guillard ma in seguito lei aveva ormai quasi 80 anni dall'oggi al domani risultò che colui che le passava il vitalizio dovette emigrare fu espropriato i suoi beni furono venduti all'asta a un fabbricante di pantaloni per un certo tempo sembrò che neanche questo mutamento provocasse conseguenze fatali per madame guillard perché il fabbricante di pantaloni cominciò a pagare puntualmente la rendita ma poi venne il giorno in cui lei ricevette il denaro con più non più i moneta sonante bensì sotto forma di carta stampata fu questo l'inizio della sua fine materiale nel giro di due anni la rendita non bastò più neppure a pagare la legna da ardere madame si vede costretta a vendere la sua casa a un prezzo ridicolmente basso perché ad un tratto oltre a lei c'erano altre migliaia di persone costrette ugualmente a vendere la loro casa e di nuovo come controvalore ricevette soltanto quegli stupidi foglietti che di nuovo due anni dopo non valevano più nulla e nell'anno 1797 ormai si avvicinava ai 90 aveva già perso tutto il suo patrimonio accumulato a fatica con un lavoro secolare e prese distanza e dimora in una minuscola camera ammobiliata in rue de coquille e soltanto allora con dieci vent'anni di ritardo venne la morte e venne sotto forma di una lunga e complessa malattia tumorale che prese madame alla gola e la privò prima dell'appetito e poi della voce di modo che quando fu trasportata all'hotel non potesse spendere neppure una parola per sollevare obiezioni la la portarono nella stessa sala affollata da centinaia di persone in fin di vita in cui già era morto suo marito la misero in un letto assieme ad altri cinque vecchie donne del tutte strane dove giacque a corpo a corpo con le altre e la la lasciarono a morire per tre settimane sotto gli occhi di tutti poi misero il suo corpo in un sacco che fu ricucito alle quattro del mattino lo gettarono su un carro da trasporto insieme con altri cinquanta cadaveri e al fievole tintinio di una campanella lo portarono al nuovo cimitero di clamare a un miglio di distanza dalle porte della città e là la dacciarono in una fossa comune per l'estremo riposo sotto uno spesso strato di calce viva questo avvenne nell'anno 1799 grazie a dio in quel giorno dell'anno 1747 quando madame tornò a casa e abbandonò il ragazzo e la nostra storia non sospettò nulla di questo destino incombente su di lei avrebbe potuto perdere la fede nella giustizia e quindi nell'unico concetto della vita a lei comprensibile per l'unico concetto